La città di Agropoli ha risposto molto bene alla raccolta differenziata, lo dice il direttore generale della Sarim Silvio Petrone ai nostri microfoni. Possiamo fare anche un bilancio di come procede la raccolta differenziata nella città di Agropoli? È agosto, insomma, in piena estate ci sono tantissimi turisti, ecco ci può dare notizie? Sì, in effetti ci siamo sempre attestando con una percentuale superiore al 65% che è quella che è prevista dall'ordinamento. Ovviamente i mesi estivi, soprattutto luglio e agosto, fanno peggiorare la performance ma nei mesi successivi riusciamo a compensare questo risultato negativo perché comunque non scendiamo mai sotto il 65% e con punte diciamo oltre il 70%. Agropoli ha risposto molto molto bene alla raccolta differenziata però quello che dico sempre la raccolta differenziata da sola non basta ma è importante anche una maggiore attenzione al territorio quindi una maggiore attenzione a non abbandonare rifiuti, a non accumulare rifiuti, a non sporcare i viali di passeggio ma anche quelli diciamo più periferici. Bisogna avere un'attenzione maggiore su tutto, non basta soltanto la raccolta differenziata, bisogna avere una coscienza ambientale un po' più ampia.